Ci si concentra sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza dei locali del Centro Storico di Lecce per individuare il responsabile che nella notte a cavallo tra sabato e domenica ha messo a segno un vero e proprio raid in danno di sei locali della Movida. Nella migliore delle ipotesi, si fa per dire, sono stati gravemente danneggiati infissi e porte d'ingresso delle attività serali prese di mira. I danni per diverse migliaia di euro sono in fase di quantificazione. In alcuni casi i furti invece sono andati a segno, con palmari e materiale elettronico trafugati. Secondo le prime indiscrezioni, si cerca un bandito solitario e di corporatura robusta, immortalato dagli impianti di videosorveglianza privati del Centro Storico. Avrebbe per almeno un'ora e mezzo attraversato la zona della Movida a piedi, impugnando un grosso piede di porco. A quell'ora, presumibilmente dalle due di sabato notte fino alle cinque, i locali avevano chiuso i battenti, ed è allora che sarebbe entrato in azione completamente indisturbato. In un caso specifico, dopo aver tentato vanamente di forzare la porta d'ingresso di un pub, si sarebbe dapprima allontanato, poi avrebbe fatto ritorno nello stesso posto, con un attrezzo da scasso ancora più imponente. La prima tappa del malvivente sarebbe stata una falegnameria, dove probabilmente avrebbe reperito l'attrezzatura da scasso. Poi, via, verso i locali Sciui, le Radici Catieni, Duca e Rod. Danilo Stendardo, titolare di quest'ultimo locale, rappresentante della Movida in Fipe Confcommercio, si fa portavoce delle doleanze manifestate dai colleghi al margine dell'episodio, che non è il primo. Ci chiediamo, dice, se esistono impianti di videosorveglianza comunali e se sia giusto che sul fronte della sicurezza ci si debba sentire completamente abbandonati a se stessi, così come sta accadendo per noi imprenditori della vita notturna, ma non solo. Si potrebbe fare tanto, aggiunge, a partire da una maggiore illuminazione e un pattugliamento della zona in primis negli orari critici. Sarebbero i primi deterrenti per azioni criminali che non siamo più disposti a subire nell'indifferenza generale.